salve a tutti e bentornati in una nuova puntata di sai che qui su sai che web tv intanto un saluto a tutti quanti da io pino da donato e da valeria salutiamo anche i nostri collaboratori sebastiano ariana e sarah ciao ragazzi ok il sai che di oggi a cosa a cosa lo dedichiamo donato il sai che di oggi è dedicato allo sport giovanile e quale il calcio da che età si può iniziare questa attività sportiva cosa insegna questo sport quali sono gli obiettivi che si raggiungono ci danno delle informazioni il direttore generale della sede calciomania emiliano sansonetti e il mister roberto bellantuono di castellana grotte in provincia di vari puglia adesso però prima di vederci il video che cosa succede avete anche voi da suggerirci ora che o raccontare un sai che come prenotate un incontro pre intervista anche solo per informazioni e i contatti li trovate sui tutti i social facebook instagram google iscrivetevi al nostro canale ed è facile basta andare nel link sotto a destra passate il mouse o il dittino da sopra esce in automatico iscrivetevi e voi lo fate e noi vi ringraziamo mi raccomando il campanellino per essere aggiornati sui nuovi video ok allora è proprio arrivato il momento giusto intanto salutiamo a tutti quanti e ad è arrivato il momento giusto di vederci quest'altro bellissimo sai che ciao a tutti il sa che di oggi parliamo di sport calcio siamo con il signor emiliano sansonetti direttore generale dell'associazione asd calcio mania di castellana grotte provincia di bare emiliano da che età si può iniziare questo sport e fino a che età gestite questi ragazzi poi innanzitutto buonasera a tutti questo sport la nostra società ma in generale secondo le linee guida si inizia ai cinque anni noi terminiamo poi le attività ai 16 anni nei primi anni di età parliamo più che di vero sport si parla di attività ludica attività ludica perché permette ai bambini di avvicinarsi innanzitutto allo sport in generale e quindi si parla di giochi e di divertimento pian piano col passare degli anni poi ci sono diverse categorie e diciamo l'impegno diventa sempre maggiore quindi poi parleremo 2 p 12 anni di attività agonistica le categorie che noi gestiamo sono piccoli amici primi calci che sono in quest'anno sono i bambini dal 2011 e 2012 pulcini 2009 2010 esordienti che sono 2007 2008 giovanissimi che sono quest'anno 2005 2006 e allievi per finire 2003 2004 quest'anno con gli allievi ad esempio abbiamo appena conquistato il titolo provinciale vincendo il nostro il nostro girone abbiamo appena concluso sabato scorso l'ottimo campionato con i giovanissimi e qui diciamo questa attività agonistica vi ripeto perché è molto importante per chi non non segue questo sport o non segue i ragazzi parliamo di attività agonistica dopo i 12 anni invece sotto parliamo di attività ludica quindi diciamo le linee guida indicano come diciamo principi di gioco il divertimento il giocare tutti nello specifico abbiamo stiamo vedendo un gruppo di ragazzi del 2011 che sono allenati dal dal mister roberto che ha una qualifica isef come molti dei nostri tecnici e questo permette loro una diciamo una crescita sicura ai bambini di questa categoria abbinata alla loro età cosa si insegna con questo sport allora per questa questa domanda vi risponde direttamente il mister di questo gruppo mister roberto bellantuono questa è una categoria questa è una categoria diciamo che nelle scuole calcio la categoria seconda partita dal basso perché prima ci sono i piccolini che vengono definiti piccoli amici dalla federazione calcio e poi c'è la seconda categoria che sono viene definita primi calci e con questi bambini con questa età in questo anno calcissico stiamo parlando di 2011 e anche 2012 diciamo più grandi e si può già iniziare un determinato tipo di lavoro un po più sulla tecnica analitica perché altrimenti si preferisce fare un tipo di allenamento che va più verso il gioco la situazione e quindi creare dei bambini che non siano proprio dei veri e propri tra virgolette calciatori no quindi non si fa un tipo di allenamento analitico calcistico ma più situazionale ovvero si mette un po da parte quello che riguarda la tecnica calcistica come può essere comunemente noi conosciamo il dribbling lo stop il tiro in porta il dominio della palla la condizione della palla e si preferisce fare far allenare questi elementi all'interno di situazioni di gioco che possono essere un bambino contro un altro bambino un bambino contro il portiere in modo tale da incentivare più che altro quella fase propria di questa età che è l'egocentrismo ovvero io voglio la palla la palla me la devo tenere io per me la squadra non esiste e in questo periodo della vita stiamo parlando sempre della prima fascia delle scuole calcio quindi dei piccoli amici è un qualcosa che bisogna incentivare quindi anche da un punto di vista educativo se io vado a portare porto dei bambini a svolgere una partita innanzitutto devo preferire abbassare il numero di bambini di una squadra e quindi non fare partite di cinque contro cinque ma meglio due contro due massimo tre contro tre dove il terzo è il portiere quindi due contro due in campo e uno in porta proprio perché il bambino più tocca la palla e più è dentro al gioco e più è nella sua fase egocentrica cioè io ho la palla la palla è mia ma la devo portare a casa un po quello che ci ha insegnato olie benji no non so se ci ricordiamo dei grandissimi olie benji mentre invece in questa hanno finendo terminando il discorso è abbastanza chiaro cioè io do la capacità la possibilità al bambino di toccare più volte la palla e in quelle fasi di gioco ogni tanto si interviene per dire fai meglio lo stop lo puoi fare con questa parte del piede non con quest'altra il tiro lo puoi fare con questa parte del piede senza dare troppa importanza ecco proprio al gesto analitico ma in effetti io ho visto prima che facevi facevi fare il lancio con le mani oppure il lancio con una tavola dove saltava la palla insomma ho visto diverse tecniche di base cioè spiegaceli un po più ok in pratica in pratica in questa fascia d'età loro consideriamo che l'anno prossimo già saranno nella terza fascia d'età perché questo è il secondo anno che svolgono e nella prossima fascia d'età già loro si stanno avvicinando a un a un insegnamento un po più analitico e quindi un po più di tecnica tant'è vero che adesso bisogna inserire questi elementi proprio perché non avendolo fatto in precedenza proprio perché si è dato risalto alla situazione al gioco adesso si va un po più nello specifico senza esagerare senza esasperare perché comunque c'è tempo ancora e allora si possono introdurre quella pedana che avete visto prima per esempio è un ottimo mezzo didattico venuto fuori da poco ma si conosceva da tanto tempo in pratica una volta a meno io adesso ho 42 anni quando giocavo io nella loro la loro età si usava il muro no si usava il muro oppure per strada c'era in marciapiede si faceva la sponda e si non ci insegnava niente nessuno lo imparavamo noi a fare l'uno due a fare il gioco di sponda da e vai da e segui eccetera quindi adesso invece con questi con questi ausili come la pedana in legno è abbastanza diciamo sono abbastanza utili soprattutto grazie alla scuola calcio che ci mette a disposizione questi questi mezzi perché poi adesso li hanno fatti con gli angoli con gli spigoli quindi la palla può prendere un certo un certo rimbalzo e quindi diventa un po più difficile da controllare oggi come oggi il calcio è diventato più difficile anche dal punto di vista dei bambini sono più o meno tutti agli stessi livelli quando giocavo io c'era uno forte e tutti gli altri e diciamo potevano stare anche panchina mentre invece adesso quello forte lo trovi raramente si trovano tutti i bambini più o meno allo stesso livello e quello che stiamo facendo in questo periodo specialmente perché voi siete qui in questo periodo e iniziare a lavorare sul tempo tecnico ovvero il ritmo che ognuno di noi ha quello che serve per camminare per correre perché sono due ritmi diversi per andare in bicicletta o per ballare per esempio a prescindere che ci sia la musica oppure no in questa fascia d'età il ritmo lo bisogna inserirlo anzi allenarlo attraverso la palla quindi se una palla è più lenta bisogna avere ritmo nel senso che la devo anticipare o la devo aspettare se più se insomma in base al ritmo della palla devo assecondare il mio il mio team il ritmo è una cosa altamente difficoltosa sia da insegnare che da apprendere però loro sono spugne in questo momento quindi noi ci diamo dentro ci diamo dentro e l'esercizio in questo questo preciso istante che stanno che stanno svolgendo è quello proprio di aspettare di prendere la palla con la suola della scarpa anticipando il rimbalzo della palla quindi diciamo di controbalzo un po no e portarsi la palla in avanti per avere la possibilità di tirare anche se questa palla è alta perché la difficoltà effettivamente è che quando le palle sono alte non si non si riesce a fare lo stop di petto lo stop di coscia a meno che il bambino non è già evoluto allora si cerca di iniziare piano piano giusto nell'attesa che tanno questi bambini però loro due sono più piccolini perché sono 2012 le altre invece sono tutti 2011 l'anno prossimo si trovano a giocare i 2011 in coppia con i 2010 quindi con quelli più grandi di loro di un anno e invece 2012 faranno coppia con quelli più piccoli 2013 perché di solito si accoppiano sempre in questo in questo modo il 2011 di quest'anno con il 2010 l'anno prossimo diventano categoria pulcini che è la terza categoria partendo dal basso mentre invece 2012 hanno ancora un altro anno di questa categoria che si chiama primi calci che è la seconda partendo dal dal basso mentre invece la sd calciomania ha il gruppo dei piccoli amici si chiama che sono proprio la base di ogni scuola calcio bene roberto noi ti ringraziamo a un'altra occasione grazie a ragazzi buon divertimento su dai dai che diciamo noi bene allora allora emiliano quali sono i principali obiettivi che vi proponete e allora noi innanzitutto siamo nati dieci anni fa eramo insomma un gruppo di quattro ragazzi amanti di questo sport e dello sport soprattutto e l'obiettivo in un paese diciamo piccolino come il nostro è quello di far avvicinare quanti più bambini e ragazze possibili a questa disciplina in questo caso il calcio però secondo me in generale le associazioni sportive dei piccoli comuni devono cercare di far avvicinare i ragazzi allo sport per evitare diciamo che poi prendino altre strade nel per quanto riguarda noi siamo partiti così quasi per gioco oggi ci ritroviamo con 220 tesserati siamo da diversi anni affiliati all'udinese abbiamo incominciato a vincere i nostri primi campionati giovanili quindi diciamo l'obiettivo si è spostato o meglio si è diviso cerchiamo in una fase di recuperare quanti più ragazzi possibili e quindi di farli divertire farli e farli giocare dall'altra parte di far crescere i ragazzi che sono predisposti a questa disciplina e quindi ci cerchiamo di mandare avanti a livello agonistico quindi diciamo gli obiettivi sono duplici avvicinare i ragazzi allo sport e non farli abbandonare far crescere i ragazzi dal punto di vista agonistico e quindi diciamo cercare di mandare in qualche società professionistica come già accaduto nella passata stagione che un ragazzo nostro del 2004 è stato preso dalla virtus francavilla società professionistica che milita in nella lega pro grazie emiliano grazie a voi mi ha fatto molto piacere diciamo prendere parte a questa vostra iniziativa buonasera sai che può interessare o coinvolgere anche te a 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